Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità, questa mattina a Pescara l'intersindacale sanitaria abruzzese nel corso di un incontro con la stampa ha lanciato un grido d'allarme relativamente alla politica sanitaria regionale e ai problemi delle varie ASL. Ci dice tutto nel servizio Paolo Renzetti. Noi fondamentalmente contestiamo il fatto che sono state individuate nuove figure professionali, un coordinatore di area territoriale, un coordinatore di area ospedaliera, due per ogni ASL, quindi otto, con un costo complessivo di 1.600.000 Euro, che non sono previste da nessuna norma del contratto nazionale per la dirigenza medica, quindi un aggravio di spesa non giustificato, che si sovrappone a quelle che sono già le direzioni amministrative, sanitarie e generali di ogni azienda e alle quali si possa accedere soltanto con un'anzianità di 7 anni e con un master di secondo livello. Molti parlano della Bocconi, noi li definiamo due super pippo, noi organizzazioni sindacali, in un contesto in cui vengono tagliati gli incarichi dirigenziali, tutti i medici decadranno dagli incarichi dirigenziali, anche quelli che hanno un contratto in essere, in un contesto in cui viene decurtato di un milione di Euro la spesa per il personale, in un contesto in cui non vengono ancora recepite nel fatti le linee guida europee, le leggi europee per meglio dire, che dovrebbero obbligare tutte le regioni ad assumere nuovi medici per rispettare quello che è l'orario di lavoro e che vi assicuro non è assolutamente rispettato. Contestiamo anche la formazione di dipartimenti che non hanno motivo di essere nel momento in cui dovrebbero aggregare unità operative complesse che non esistono, quindi dovrebbero essere prima create le unità operative complesse e poi i dipartimenti con nuove spese, insomma noi siamo contenti per dirla tutta di essere usciti dal commissariamento, purché questa uscita dal commissariamento non debba significare arbitrio e temiamo che è quello che sta succedendo nella regione Abruzzo. Un'ultima cosa me la dovete lasciare dire, io lavoro a Lanciano, sono nato a Chieti, ho lavorato tanti anni a Chieti, ma questo emendamento in Parlamento che è stato approvato e che esclude dal decreto Lorenzin le aree del cratere porta in pratica che solo all'alzi di Lanciano Vasto Chieti sarà applicato il decreto Lorenzin. Io questo ritengo che sia una profonda ingiustizia in un ospedale hub, soprattutto quello di Chieti, come ben sapete, è un ospedale che rischia di chiudere per grave deficienze strutturali. Noi stiamo lavorando assolutamente non in sicurezza e il mio timore è che una scossa di terremoto possa creare l'immaginabile. Se i politici invece di pensare al proprio tornaconto, al proprio orticello, capissero che è l'interesse di tutta la regione Abruzzo, secondo me dovrebbero essere più equilibrati e più obiettivi nelle loro decisioni. Dai problemi della sanità le buone notizie sempre per quanto riguarda la salute in regione Abruzzo, perché questa mattina a Vasto è stato tagliato il nastro del nuovo reparto dei sargeri dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. Nel 2016 nel Vastese sono stati 1.400 gli interventi effettuati proprio in regime dei sargeri e allora andiamo a vedere insieme il servizio sull'inaugurazione. Un anno di lavori e 330.000 euro di investimenti da parte della ASL Teatina. A Vasto è stato tagliato il nastro della nuova unità operativa di dei sargeri dell'ospedale San Pio di Pietrelcina, insediata all'interno dei locali dell'ex centro di igiene mentale a Tigui al blocco operatorio. La nuova unità operativa ha a disposizione otto letti con nuovi arredi, ambulatori, locali di servizio e spogliatoi ad uso del blocco operatorio. La dei sargeri è stata strutturata come una unità operativa semplice dipartimentale nell'ambito della organizzazione aziendale e la responsabilità del reparto è stata affidata all'anestesista Filippo Marinucci, coadiuvato dal caposala Cosimo Pizzuto. Di spazi lasciati liberi dal dei sargeri sono stati destinati all'osservazione breve in modo da alleggerire il carico sul pronto soccorso. Intanto abbiamo reso molto più funzionale il presidio sul comparto della rete di emergenza urgenza dedicando il reparto del lobby al pronto soccorso già corroborato dalla presenza delle medicalizzate da San Salvo all'interno del Vastese che hanno rafforzato la rete di emergenza urgenza. In secondo luogo abbiamo dedicato un altro pezzo di lavori alla inaugurazione del dei sargeri che non solo rappresenta oggi un ambiente più confortevole rispetto al precedente ma che è anche più sicuro poiché ha i reparti stessi molto collegati alla parte delle sale operatorie. Nel 2016 sono stati effettuati a Vasto 1.396 interventi in regime di dei sargeri e 562 di tipo ambulatoriale nell'ambito dell'oculistica. Nel complesso sono stati 5.856 di interventi chirurgici. L'attività del dei sargeri è organizzata con un calendario settimanale che prevede due sedute di chirurgia generale, una di ostetricia, due di oculistica e alternativamente a seconda delle necessità una di ortopedia e urologia e di altri reparti che ne avessero bisogno. Altre prestazioni invece riguardano il posizionamento di accessi venosi per i malati oncologici. Le caratteristiche tecniche del reparto è un dei sargeri per cui qui saranno allocati tutti i pazienti che faranno degli interventi chirurgici diurni per cui entreranno la mattina e usciranno il pomeriggio. È un reparto con otto posti letto proprio dedicati all'attività chirurgica diurna. È un reparto completamente ristrutturato e viene diretto dal dottor Marinucci che è un nostro anestesista e per cui è direttamente collegato con la struttura complessa dell'anestesia e rianimazione anche se questa in realtà è una unità operativa semplice dipartimentale. Flash Mob Rigopiano tre mesi dopo il prossimo 18 aprile a Pescara organizzato dal Comitato Vittime Rigopiano in memoria delle 29 persone morte sotto le macerie dell'albergo travolto da una valanga il 18 di gennaio. Il ritrovo sarà in Piazza della Repubblica vicino alla stazione di Pescara Centrale alle 16.15 da qui un corteo arriverà in Piazza della Rinascita dove familiari e amici formeranno un grande cerchio umano quindi alle 16.48 ora presunta della valanga squilli di tromba con il silenzio d'ordinanza che annuncerà l'arrivo dei bambini come dei candidi fiocchi di neve annunciano i promotori indosseranno una t-shirt bianca colore della purezza della neve al suono della tromba tutti i bambini correranno verso il cerchio come corse la valanga sui nostri cari perché la neve e la natura non sono i responsabili della morte ma sono innocenti come i bambini che la rappresenteranno alle 16.49 il programma prevede il cerchio della vita sulle note della canzone di Ivana Spagna Ora ci spostiamo a Teramo raggiunto l'accordo preliminare per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico Teramano di Porta Melatina per il quale il masterplan ha stanziato 35 milioni di euro la ASL di Teramo si impegna a concedere in uso il vecchio manicomio all'università che dovrà gestire il recupero dell'edificio per trasformarlo in una cittadella della cultura il tutto dovrà essere approvato dal consiglio comunale sentiamo Tania Bonnici Castelli L'ex ospedale psichiatrico di Teramo è una ferita aperta nel cuore dei teramani una struttura alla cui riqualificazione non è più rinviabile inoltre dopo gli ultimi eventi sismici e i danni causati dal mattempo è oggetto proprio in questi giorni di lavori urgenti di messa in sicurezza nel corso del tempo la cittadinanza ha assistito impotente al degrado di quello che è un vero e proprio pezzo di storia di Teramo importante non solo per l'uso a cui l'edificio era destinato ma anche perché di fatto costituiva le mura della città antica dove si entrava attraverso Porta Melatina parliamo di 22.000 metri quadri di estensione su più edifici storici con chiostri, cortili interni, giardini e la bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate tutto in rovina oggi il masterplan ha stanziato per il recupero dell'ex manicomio di proprietà dell'asla di Teramo 35 milioni di euro e ha designato l'università ente attuatore del piano proprio in questi giorni si stanno studiando i termini di un comodato modale attraverso il quale l'asl concederà in uso all'Ateneo Teramano l'edificio di sua proprietà che verrà completamente restaurato e destinato a un centro internazionale di cultura artistica e musicale dal canto suo l'asl si riserva una parte dell'immobile per destinarla ad ospitare strutture territoriali espressamente dedicate ai pazienti psichiatrici un iter che si concluderà solo con l'approvazione finale del consiglio comunale già se ancora ce ne sarà uno e mentre la politica teramana si accapiglia su poltrone ed incarichi ripicche e giochi di supremazia la città, inutile dirlo ancora, cade a pezzi Ed ora una notizia che riguarda l'ente porto di Giulianova il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio chiede l'intervento della regione Abruzzo sull'ente porto già da tempo, sottolinea D'Ignazio avevo espresso il mio parere sulla necessità che la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente dovesse essere ampliata e che l'operato degli stessi membri avvenisse in modo gratuito una proposta che avrebbe consentito una maggiore rappresentatività delle forze politiche del territorio e che aveva lasciato indifferenti gli esponenti della maggioranza di governo tanto quanto i miei colleghi delle centrodestre evidentemente distratti da altre problematiche ma soprattutto i modi e i tempi che hanno caratterizzato la nomina dei membri fin dall'inizio un consiglio di amministrazione, aggiunge il consigliere formatosi durante i tragici eventi del maltempo e anche con l'assenza della regione Abruzzo socio di maggioranza Andiamo avanti, adesso torniamo a Pescara 22 mila euro destinati al progetto Mi impegno per Pescara promosso dalla lista Teodoro sono invece finiti per effetto di una delibera di giunta comunale al progetto Nonno Vigile contro questa decisione si schiera la lista Teodoro con il consigliere Massimiliano Pignoni Dei fondi che vengono tolti da un progetto un progetto per i meno abbienti e allora si parla anche di bloccare il consiglio comunale si parla di 70 persone, i dati quali sono? Ma io ho ideato questo progetto che è il progetto Mi impegno di per Pescara che poi è stato votato all'onanimità dal consiglio comunale per cercare di far lavorare queste persone bisognose che quotidianamente ovviamente vanno alla ricerca di un posto di lavoro persone che hanno figli, persone che vivono la difficoltà di un tumore e quant'altro c'è stato un regolare bando sono state prese 70 persone che attualmente lavorano all'interno del Comune di Pescara chi nei musei, chi fa gli usceri, chi all'interno dell'Aurum chi presso lo stadio Adriatico, chi presso la viabilità vengo a scoprire da una delibera rigiunta fatta l'altro ieri che c'è stata in un'iniziativa da parte del sindaco che ha revocato 22 mila euro quindi questi soggetti non finiranno a fare questo progetto a favore dei nonni vigili per far attraversare i ragazzi sulle strade perché questo? per i bambini sulle strade perché noi come progetto avevamo previsto l'acquisto di voucher per l'intera durata del progetto stesso invece per i nonni vigili l'acquisto dei voucher avveniva mese per mese e siccome il governo ha tolto i voucher arrivato a questo punto si sono trovati nella impossibilità di poter continuare questo servizio allora dico io siccome manca un mese alla fine della scuola i nonni vigili alla fine comunque sono persone pensionate perché la domanda la possono fare soltanto persone pensionate che comunque eventualmente prendono quelle 500-600 euro di pensione minima arrivato a questo punto io dico che bisogna eliminare e tornare indietro e il sindaco deve annullare la delibera e rimettere i soldi a queste persone bisognose che cosa accadrà se non lo farà? semplicemente una cosa bloccheremo i lavori del Consiglio Comunale Andiamo avanti in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Chieta Antonio Corona è stato predisposto il rafforzamento della vigilanza sulle strade nonché delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada in previsione di un sensibile incremento della circolazione stradale nelle festività pasquali e passando per il 25 aprile fino al 1 maggio completa delle opportune indicazioni e disposizioni fa sapere il vice prefetto vicario calabrese l'ufficio ha diramato specifiche direttive agli enti e agli organi interessati al momento non si riscontrano particolari criticità sulla viabilità della provincia c'è eccezione fatta per un cantiere sulla A14 nel tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud che non risulta possibile rimuovere per ragioni di sicurezza A Chieti ascensore tunnel pedonale di Largo Barbella sotto il tiro della polemica politica il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Marzoli questa mattina ha illustrato le problematiche dell'incompiuta sentiamo Marzoli voi parlate di incompiuta teatina parliamo di questo ascensore che avrebbe dovuto collegare la zona alta con la zona bassa della città perché i lavori sono fermi e perché parlate di incompiuta? Alla vigilia di un appuntamento importantissimo dal punto di vista anche emotivo per la comunità teatina come la processione del venerdì santo ci troviamo ancora una volta a denunciare quella che è effettivamente l'incompiuta della città di Chieti una struttura che collegherebbe il terminal del Gran Sasso cioè il punto di arrivo degli autobus Piazzale Falcone e Borsellino con il cuore della città del centro storico che già dal 2009-2010 doveva essere completata e ci troviamo a distanza di quasi 10 anni dall'inizio di quella realizzazione a non avere ancora una struttura completa e inaugurata abbiamo presentato nel corso degli anni diversi documenti in Consiglio Comunale un'interrogazione a settembre 2016 in cui l'assessore ai lavori pubblici della giunta di Primio si era preso il solenne impegno di inaugurare questa struttura per Pasqua 2017 oggi la situazione del cantiere è questa è impossibile parcheggiare in quest'area è impossibile accedere al centro storico e questo causa gravi danni anche alle economie teatine l'idea del tunnel era quella di aumentare la possibilità di parcheggiare non a ridosso del centro storico e salire agevolmente nel cuore della città e in termini di facilitazione della mobilità di traffico sostenibile, di qualità dell'area di snellire l'impatto del traffico su Chieti questa era l'opera giusta nonostante ciò sembra tutto dimenticato e i quasi 3 milioni di investimento ad oggi non sono stati ancora messi a frutto e questo per noi è inaccettabile l'istituto artistico Misticoni Bellissario di Pescara è stato oggetto di lavori di adeguamento sismico che consentiranno anche di aprire nuovi spazi a disposizione della cittadinanza per attività culturali e sociali questa mattina l'inaugurazione dei locali con uno spettacolo degli studenti il servizio di Francesca Romana Testi al Misticoni Bellissario c'è area di novità soprattutto in ambito di sicurezza si parla di quelli che sono stati i lavori di adeguamento ma anche di altre novità noi abbiamo avuto un finanziamento su scuole d'Abruzzo di 250 mila euro che era stata programmata nell'amministrazione provinciale precedente alla mia gestione e noi abbiamo avuto poi la possibilità di vedere finanziato ecco questo intervento e dal 2015 in poi abbiamo provveduto a fare il progetto e quindi la cantierizzazione dell'opera la nostra scuola è una scuola a cui finalmente è stata restituita una parte molto importante sia la parte dell'aula magna aula polifunzionale e sia la parte dei laboratori di stampa e di serigrafia da una parte è la parte artistica e quindi con mostre, eventi la parte musicale e la parte coreutica con il balletto e la nostra intenzione è aprirci anche al territorio quindi fare in modo che questi spazi siano dati proprio anche alla cittadinanza nel senso che la scuola potrà organizzare anche degli eventi magari pomeridiani che potranno quindi far venire come ospettatori oppure attori quindi partecipi anche enti, associazioni presenti nel territorio noi abbiamo avuto la possibilità di realizzare quest'opera anche perché oltre ad aver approvato i due bilanci precedenti il 15 e il 16 ma abbiamo potuto farlo proprio sforando il patto di stabilità nel 2015 che ci ha consentito poi di avviare tutta la progettazione la programmazione e l'appalto necessario per intervenire nelle scuole i comuni di Orsogna e Campobasso nel Molise hanno presentato a Pescara un progetto turistico-culturale finalizzato al riconoscimento dei talami di Orsogna e dei misteri di Campobasso quali patrimonio immateriale dell'UNESCO le due manifestazioni sono già riconosciute dal Ministero del Turismo come patrimonio d'Italia per la tradizione patrimonio immateriale dell'UNESCO si parla dei talami di Orsogna in questo caso e allora c'è anche una comunione insieme ai cosiddetti misteri di Campobasso un'unione che vuole portare più attenzione come si svolgerà? Abbiamo trovato un forte collegamento con i misteri di Campobasso che ricordiamo che è una festa che si fa il Corpus Domini anche perché hanno delle similitudini a livello di organizzative loro hanno 13 misteri che però sono sempre gli stessi noi invece abbiamo 6 talami che di anno in anno in base all'argomento quest'anno non si vive di solo pane cambiano quindi con personaggi nuovi scene della Bibbia nuove per cui ecco io credo che questa bisogna tornare alla tradizione è per un per chi ci crede per un ritorno a quella che è la cristianità i valori veri dell'uomo è per la tradizione, per la cultura che sono uniche e quindi noi possiamo e dobbiamo assolutamente presentare ai nostri turisti a coloro che vengono da fuori regione e da fuori Italia un qualcosa che non potranno vedere in nessun'altra parte del mondo quando si svolgerà? C'è un appuntamento che in qualche modo richiamerà più attenzione? per noi dei talami il 18 di aprile il martedì dopo Pasqua per cui ecco abbiamo abbiamo ripristinato il lunedì sera alla veglia di preghiera dove ecco si ricorda questa specie di miracolo della trasfigurazione dell'effigie della Madonna da Madonna nera in Madonna con un volto chiaro e il martedì con i talami con tutta la sfilata dei talami dei sei talami più dopo abbiamo ripristinato il piatto tipico dei talami e poi il pomeriggio con la processione e con lo sbandimento dei doni votivi che la gente all'epoca ecco dava proprio per in onore della Madonna del Rifugio diciamo che con i misteri poi di Campobas noi procederemo alla redazione di un protocollo d'intesa faremo quindi delibere dei consigli comunali proprio per arrivare poi al 24 giugno che è la data di scadenza per partecipare al bando nazionale delle Melaviglie d'Italia ed ora lo sport con il calcio di Serie A in primo piano il Pescara si prepara alla sfida di prestigio contro la Juventus sabato allo stadio Adriatico Cornacchia uno stadio che si preannuncia davvero da tutto esaurito con i biglietti in fumo in poche ore tra l'altro Juventus reduce dalla bella vittoria ieri sera contro il Barcellona per 3 a 0 oggi prove generali intanto della gara di sabato nell'amichevole in programma alle 15 a Cupello in provincia di Chieti intanto è stato deferito Alessandro Bruno per vicende relative alla sua esperienza nel Latina sentiamo cresce l'attesa per l'arrivo in Abruzio della vecchia signora con la testa i bianconeri di Massimiliano Allegri il Pescara farà le prove generali alla gara con la squadra torinese questo pomeriggio alle 15 al comunale di Cupello dove la squadra di Zdenek Zeman affronterà in amichevole la formazione vastese che milita nel campionato regionale di eccellenza il tecnico boemo potrebbe provare anche quella che sarà la squadra da mandare in campo sabato allo stadio adriatico contro i campioni d'Italia sotto la lente di ingrandimento del tecnico pescarese ci sono in questione Bayback che però potrebbe anche saltare la gara di oggi per proseguire il programma di recupero dopo l'infortunio di Empoli Coda e Fornasier entrambi in lizza per sostituire al centro della difesa lo squalificato bovo intanto il procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale sezione disciplinare l'attuale vice capitano del Pescara Alessandro Bruno insieme a lui anche il vecchio compagno del Latina Marco Crimi all'epoca dei fatti entrambi calciatori tesserati per il Latina Calcio nonché il signor Pasquale Maietta all'epoca dei fatti amministratore e legale rappresentante della società pontina in ordine alla violazione dell'articolo 1 bis comma 1 del codice di giustizia sportiva di violazione di quei principi di lealtà, probità e correttezza che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva della federazione italiana gioco calcio Ed ora invece siamo alla Lega Pro e ovviamente parliamo del Teramo che prosegue la preparazione in vista del match decisivo di sabato contro il Forlì un vero e proprio spareggio salvezza per il diavolo sulla partita del Bonolis e sul momento dei Biancorossi andiamo ad ascoltare le parole dell'attaccante Marco Sansovini ha bisogno di tutti il Teramo uno solo non fa niente ha bisogno del 100% da parte di tutti quanti chi gioca e chi non gioca veramente da chi è stato più utilizzato deve dare ancora le ultime forze perché dopo un campionato comunque è stato lungo è stato faticoso anche e soprattutto a livello mentale perché chiaramente quando i risultati non arrivano diventa tutto più pesante sicuramente fino a quello che magari è stato utilizzato di meno perché nelle ultime parti di stagione poi c'è veramente bisogno di chiunque Molti definiscono la partita col Forlì come una finale sei d'accordo? Sì la dobbiamo credo vivere così con la giusta serenità non tranquillità serenità che è diverso quindi con la lucidità giusta però è normale che io credo che arriveremo ovviamente alla partita mentalmente molto carichi come è giusto che sia perché è una partita troppo importante per noi io vedo i ragazzi che già parlavamo del Forlì quindi già siamo in partita contro il Forlì perché ripeto è inutile parlare di quello che poteva essere il rammarico lo sappiamo tutti che quando si perde non è raccolto niente però però il calcio ti dà l'opportunità quasi subito subito di invertire la tendenza e di rifare punti no tre punti con dodici disponibili siamo tutti lì abbiamo visto che il Parma perde con tutto rispetto con l'Ancona che è due a zero in casa che ha sette punti di distacco dalla penultima quindi siamo veramente tutti lì tutti possiamo rientrare dentro prima di chiudere una notizia invece che riguarda il ciclismo perché è stato ufficializzato questa mattina il tracciato dell'edizione numero 28 del Giro d'Italia internazionale femminile elite in programma dal 29 di giugno al 9 di luglio prossimo e valevole come prova al Women's World Tour 10 le tappe previste tra le quali spicca quella di Roseto degli Abruzzi partenza e arrivo nella stessa città 116 chilometri di questa tappa riservata alle velociste ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che termina qui io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 vi ricordo anche che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina Youtube di TV6 e anche sul sito www.tv6.it grazie ancora e vi auguro una buona giornata a